Salve a tutti fratelli di Bratticamera998 e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati in un video un po' particolare Intanto io volevo ringraziare per i 40 iscritti che ho fatto anche Che era Lo speciale E raga stasera ci sarà Un evento assurdo Cioè ci sarà la live reaction di Juventus Torino Con un amico mio Juventino Io ti farò Torino e lui ti farà la Juventus So che se non lo sentite l'amico mio Nel video È perché È perché non abbiamo tante attrezzature Però io lo pubblico comunque Pure se non si sente Io lo pubblico comunque E se sempre non si sente Avviate i sottotitoli e lo guardate Senza Senza niente Vabbè Vabbè ragazzi questo vi volevo dire Vi volevo dire che stasera alle 6 Alle 6 tra un'oretta Uscirà il video della live reaction In realtà la faremo alle Alle 6 e 20 Dai 6 e 25 Vabbè Sì da bella ragazzi Grazie.